Emilio Capaldi sarà il nuovo direttore generale del Teramo. Nel nuovo organigrama prenderà il posto di Gianluca Scacchioli. Capaldi per molti anni è stato l'anima del Celano, portato dai dilettanti fino alla seconda divisione, grazie ad una gestione attenta, oculata e improntata sui giovani. Ne è stato in particolare il direttore generale, specie sotto la presidenza Piccone. Nelle ultime stagioni, dopo l'addio dello storico presidente, Capaldi è stato anche egli presidente e amministratore unico della società e porta con sé un bagaglio di esperienza non indifferente. Sul fronte tecnico, invece, nelle ultime ore il diester Giorgio Repetto ha incassato il nodo di Alessandro Bruno. L'esperto centrocampista di Benevento, dopo due anni e mezzo al Pescara, si accinge a cambiare casacca, ma il suono potrebbe non essere definitivo. Bruno potrebbe vagliare altre soluzioni. In Serie B si registra un interessamento dell'Avellino. In caso di mancato accordo con una compagine della cadetteria, Teramo potrebbe tornare in auge, sempre che, Repetto, non viri decisamente altrove. Resta forte l'interesse del Teramo per il trequartista del Bassano, Roberto Candido. La dirigenza del Teramo è in costante contatto con l'agente del calciatore e a breve si potrebbe chiudere. Così come il Diavolo resta sempre fortemente interessato al Gambiano di proprietà del Chievo, Yusufa Bob. Repetto, sta lavorando sulla modalità del trasferimento. Il club Clivenze opta per il prestito secco. Il Teramo vuole il prestito con diritto di riscatto. Per l'attacco non c'è ancora un obiettivo forte, ma la società è vigile e sta sondando alcuni profili. Qualche giorno fa, ad esempio, sembra ci sia stato un contatto tra la dirigenza teramana ed il centroavanti Felice Evacuo, che nell'ultima stagione ha giocato a Parma nella prima parte, segnando sul rigore il gol del Pari contro il Teramo al Tardini, per poi trasferirsi nel girone A all'Alessandria da gennaio. E' chiaro che però il possente centroavanti di Pompei, seppur alle soglie dei 35 anni, viaggi ad un ingaggio elevato per le casse del club di Campitelli. Sul fronte delle partenze è stato trovato un accordo sulla buon'uscita con il difensore Raffaele Imparato, che così rescinderà il contratto con scadenza giugno 2018 e potrà accasarsi altrove.